La macchina? Che chi è? C'è mia! Come ha fatto uno come te a comprarsi una macchina così? Come ha fatto? E' assa come che è? Eh, com'è? Eh, niente, sei tre anni che fa so rapine. La polizia di tutto il Veneto gli dà la caccia e lui cosa fare? Viene qui e in dieci minuti si porta via due quintali d'oro. Dai cazzo, spara cazzo stronzo! Io ti faccio ammazzare, ti faccio ammazzare. Ti vediamo un'altra volta? No. Quando ho crescito? Non sono mai stato piccolo. Le rapidi! Via! Hai paura di scortarmi mai il sangue? Quanto guadagni? Quanto guadagni? Demo! Demo via tutti! Vieni! Non lo prenderete mai! Vieni! 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 Ma ti... Ti ha fatto del male? Senti, persone, dimmi. Ma ti capisco chi sono diventato, mamma? Mi sono uno degli uomini più potenti d'Italia, più degli industriali, più dei ministri. Ma ti capisco chi sono diventato, mamma? Dolое. Omosi. ücht!